Grazie Presidente, grazie Melania, innanzitutto voglio ringraziare voi in quanto rappresentanti di questo ordine così come tanto decantato da Melania e quindi mi fido molto di quello che lei dice perché lei di parte Melania ovviamente, però quello che dice schizzi a parte l'ho riscontrato molto soprattutto nei rapporti che ho avuto il piacere di intrattenere con Salvatore che voi tutti conoscete e quindi per il suo tramite ho avuto modo di conoscere questa professione e per il tramite del CUP che è altra realtà importante e a mio avviso l'importanza di questa realtà l'evidenza proprio il fatto che possiamo essere distinti e diversi a seconda di ordinamenti professionali diversi ma in realtà siamo tutti professionisti quindi forse parlare noi e voi è un approccio che può essere legato a una diversità di professionalità ma alla fine appunto siamo tutti accomunati da un unico modo di concepire la vita in termini professionali e di rapporto diciamo con quello che sono i nostri simili colleghi professionisti l'esterno del mondo professionale e in realtà anche rispetto a quelli che sono in rapporto con le istituzioni e questo diciamo così lo riscontriamo soprattutto come evidenziava Melania con il riferimento a numerosi principi che io riscontro anche con riferimento all'ordinamento professionale forense questo perché appunto le linee guida che contraddistinguono le varie professioni in realtà sono le stesse si parla di proprietà di coro tutti i concetti rapporti tra colleghi tutti i concetti appunto che vanno a qualificare il modo di essere un professionista sono d'accordo con Melania sulla forse non necessità o meglio più che necessità non opportunità di avere un codice scritto perché in realtà quell'etica quel modo di concepire è insito nel nostro modo di essere prima ancora di adempiere a quelli che sono appunto i passaggi formali di iscrizione ai relativi albi noi in realtà già abbiamo quel senso, quel decoro, quella professionalità, quel rispetto, tutto quello che poi ci caratterizza come comunità io questo ho il modo di concepire la professione con senso di comunità, con senso di condivisione perché poi la tutela della comunità è la tutela poi del singolo e soprattutto rispetto a quello che è la percezione esterna della comunità professionale questo spesso soprattutto in ambiti più ampi come quello ovviamente forense maggiore è il numero degli iscritti e più è difficile coltivare quel senso di comunità anche se legato anche nel caso nostro a una forma mentis molto individualista però sono sicuro che con le nuove generazioni, con ovviamente un lavoro diverso, un approccio diverso alla professione si può migliorare anche questo aspetto però noi alla fine siamo un ordinamento giuridico che si basa sui codici, sulle leggi scritte quindi è opportuno poi alla fine, è necessario, che ci dotiamo di un codice di ontologico, la previsione di precetti anche perché poi come in tutte le famiglie la pecora nera c'è sempre e quindi c'è la necessità di disciplinare la casistica, di prevedere un procedimento sanzionatorio e mi dispiace dirlo pure, la necessità di prevedere delle sanzioni perché ovviamente ogni precetto qualora non è sentito da singolo va a quel punto, diciamo così, tra virgolette imposto in maniera, diciamo così, esterna, dall'esterno proprio perché poi subentrano altri principi, altri concetti, altre esigenze di tutela altre razze che stanno alla base poi dei precetti stessi che poi vanno oltre l'essenza del singolo ed è quindi la tutela dell'essere tecnologo, dell'essere professionista e soprattutto la tutela dell'affidamento dei terzi che sono poi i nostri clienti e quindi la cittadinanza ed è questo poi importante, ringrazio poi l'accoglienza dell'ente del comune di Piano di Sorrento e l'approccio quindi lavorare in istituzioni pubbliche, con istituzioni pubbliche di tipo professionale è importante anche per abirsi alla società e uscire fuori da schemi che spesso e volentieri creano delle barriere e dei preconcetti che interrompono quella necessaria comunicazione tra professionista e clienti e quindi come vi dicevo la necessità quindi di prevedere dei precetti scritti così come la necessità è su questo io invece mi permetto di essere un po' critico e qua forse ritengo che è una necessità che poteva essere evitata perché forse non è il modo di tutelare la professionalità del singolo professionista e mi riferisco ovviamente al regolamento che ha riformato gli ordinamenti professionali in modo particolare all'articolo 7 che ha imposto l'obbligo formativo il regolamento ovviamente è entrato in vigore nel 2013 con i regolamenti attuativi questo perché? Perché sostanzialmente gli obiettivi che si pone ovviamente come dicevo prima sono di tutela del terzo quindi garantire una prestazione professionale diciamo così adeguata e affidabile questo anche per tutelare l'immagine dell'istituzione ma ritengo che ogni professionista sia spinto al di là dell'esistenza di un obbligo formativo sia spinto dalla volontà di approfondire di aggiornarsi di garantire poi sostesso una prestazione professionale adeguata e garantire sostesso ovviamente una tutela anche della sua immagine professionale perché ovviamente una prestazione professionale non adeguata a quella che è l'aspettativa professionale del proprio assistito ovviamente significa ovviamente non sopravvivere professionalmente quindi questo ovviamente è l'approccio critico proprio perché anche soprattutto con riferimento all'ordinamento professionale degli avvocati c'è il piacere di partecipare e l'idea di creare diritto creare nell'ambito della propria professionalità che è sull'appunto dall'esistenza di un obbligo però l'obbligo poi come dicevo prima è necessario in alcuni casi però quando c'è la possibilità che sia il mercato a selezionare il professionista quindi io sono più dell'idea che forse il miglior obbligo deriva appunto dalla coscienza personale dall'istinto di sopravvivenza questo perché? perché poi ovviamente ci si imbatte poi a come combinare l'esistenza dell'obbligo formativo con una idonea ed opportuna offerta formativa perché uno dei principi che rivengo nel regolamento è proprio quello che deve essere garantita l'uniformità dell'offerta formativa e purtroppo questo ovviamente io non mi riferisco all'ordine tecnologico alimentare perché sennò sarei un cattivo ospite però mi riferisco soprattutto poi in ambito professionale forense non sempre e spesso viene garantita quella opportuna uniformità non sempre e spesso si dà quell'opportuna offerta formativa che poi consente poi di bilanciare quell'esistenza dell'obbligo e quindi dire ok io ti do prevedo l'esistenza dell'obbligo formativo ma al tempo stesso ti do la possibilità che sia garantita quella offerta necessaria per raggiungere gli obiettivi che sono fissati dal regolamento stesso che sono quello di rafforzare l'abilità tecnico-professionale favorire l'acquisizione e mantenimento dell'abilità tecnico-professionale eccetera che non sto qui a leggervi perché come vi dicevo prima appartengono soprattutto a quello che è la coscienza del singolo o meglio la necessità e l'esigenza del singolo professionista però tutto questo poi si trasforma in esistenza di parametri tecnici e pratici come sono quelli dell'idea di disciplinare l'obbligo formativo su un piano triennale aspetti che poi ben conoscete proprio perché il Presidente Lami può confermare che nessuno dei Presidenti è soggetto al procedimento disciplinare per il mancato osservato no? no? ok perfetto quindi siete tutti diciamo così osservatori dei precetti regolamentari ovviamente questo poi rientrerebbe nel segreto professionale ma soprattutto nel segreto istituzionale il Presidente quindi era una domanda tra bocchette Presidente ha osservato il precetto comunque come dicevo la stessa cosa la vedete esatto e quindi come dicevo prima l'esistenza di questa ripartizione di obbligo su un piano triennale e su un piano annuale che rispecchia poi lo stesso criterio che rinveniamo anche nelle altre categorie professionali con la distinzione appunto di quello che poi sono i vari organi e organismi di vigilanza che sono legati e si stessi distribuiti su piani territoriali e da locali fino a un piano territoriale di tipo nazionale e quindi poi tutto questo come dicevo prima poi sfocia nell'esistenza di una previsione sanzionatoria che è prevista sia dall'articolo 8 del regolamento che disciplina appunto i dati tecnici e l'obbligo formativo e sia dall'articolo 17 del codice deontologico che modula in questo caso l'entità della sanzione come poi spesso accade con riferimento al panorama generale della disciplina la sanzione rispetto a quella che è la gravità e l'entità della condotta posta in essere quindi dalla censura alla sospensione fino alla radiazione ma questo ovviamente è demandato soprattutto un'attività di controllo di monitoraggio interna degli organi deputati al mantenimento quindi alla vigilanza perché diversamente da quello che accade per esempio per l'ordinamento forense quindi mi faccio questi parallelismi proprio nell'ottica di quel raffronto tra confronto della realtà professionale proprio nell'ottica di un miglioramento per esempio noi abbiamo questo sistema di rilevazione automatico mentre invece notavo che per i tecnologi c'è una dichiarazione che va fatta annualmente con autodichiarazione oppure allegando tutta la documentazione necessaria entro il mese di marzo di ogni anno giusto? Per favore quando le riceviamo ok perfetto poi ovviamente tutto questo poi innesca altri meccanismi e altri adempimenti che ovviamente in una vita professionale già ne ce ne sono tanti e forse in un'ottica di riforma del sistema si potrebbe poi a questo punto prevedere un sistema di controllo telematizzato unico con la rilevazione della presenza in maniera elettronica onde evitare poi il professionista di ricadere questo poi in un'ottica di evolutiva di miglioramento da tecnologi tecnici e quant'altro questo infatti immagino poi da un punto di vista casistico vi permetto di fare questo dialogo con il presidente a profitto della sua presenza da un punto di vista casistico poi immagino che poi la rilevanza della condotta con riferimento all'obbligo formativo in generale poi sfocia anche in altre condotte sì perché in realtà noi siamo un ordine molto piccolo in confronto al vostro però siamo molto attenti alla formazione infatti quel passaggio è stato bellissimo l'ordine si deve assumere quell'onere di proporre la formazione che sia poi sostenibile e appetibile da parte di tutti gli iscritti e questo devo dire che l'ordine lo fa molto bene lo fa molto bene perché si è strutturato sia allora e pensare che quasi tutto il gran parte quasi tutto no ma gran parte certamente della proposta formativa che proprio nell'ordine è gratuito non si paga nulla cioè riuscire a portare a compimento i 12 crediti annuali per un tecnologo è estremamente facile chi non lo fa è proprio perché non lo vuole fare perché effettivamente ci sono stati anche col covid ma anche prima c'erano dei corsi da poter scaricare online dei corsi ma poche decine di euro o addirittura chi non può farli non vuole pagare ci sono durante l'anno molti corsi assolutamente gratuiti ma anche oggi chi è venuto gli vengono riusciuti non so due o tre crediti formativi cioè l'ordine veramente su tutto questo aspetto fa tanto e purtroppo giustamente come sottolinea un avvocato forse ci sono un numero senza scendere particolare non esiguo di persone che non hanno conseguito nel treno i crediti formativi 35 crediti formativi cosa fa il consiglio disciplinare noi facciamo come buon padre di famiglia chiamiamo il singolo iscritto associato e cerchiamo di capire come possiamo risolvere ma lo possiamo fare perché effettivamente c'è uno spirito voluto da Salvatore Velotto e lo portiamo avanti perché in realtà il consiglio disciplinare non si sovrappone certamente al consiglio regionale ma collaboriamo e questo ci porta ad avere un rapporto uno a uno con gli iscritti però anche così non è semplice e purtroppo poi ci sono dei sbarramenti che dobbiamo attuare nella vita ordinistica se qualcuno ambisce o ne fa parte perché poi non può farne parte sì assolutamente ritengo fondamentale che ci sia un dialogo interno fra le istituzioni quindi consigli del settore disciplinare e consigli dell'ordine questo perché dà la possibilità anche all'ordine di capire effettivamente se il mancato assorbimento dell'obbligo dipende in generale perché non mi riferisco al caso specifico dipende appunto da un'offerta formativa non stimolante e quindi c'è anche l'effetto protesta da parte dell'iscritto dice no io decido di non conseguire il chiedo perché non mi rispecchio in questa proposta formativa rispetto invece all'idea di una proposta formativa sufficiente adeguata come nel caso del vostro ordine che però quindi in quel caso grava ancora di più la condotta dell'iscritto che non osserva che non osserva l'obbligo e sicuramente come dicevo prima il dialogo è importante perché permette poi di capire all'ordine che l'ente che deputata all'organizzazione all'offerta formativa di capire rispetto all'ente che è più vicino alla fattispecie concreta che si verifica appunto rispetto al singolo iscritto di capire se effettivamente c'è questo che e su questo sicuramente con la presenza mia questo è un evento importante rispecchia l'importanza del non sto scherzando la proponibilità diciamo così di alcuni di alcuni eventi diciamo volendo a questo punto concludere anche per evitare di monopolizzare la seduta anche se questa sala è veramente piacevole e la presenza dei colleghi del presidente di tecnologia alimentare mi darebbe piacere portarlo avanti quindi concludo dicendo che sostanzialmente rispetto alla necessità di assorbimento dell'obbligo formativo rispetto a quelli che sono i parametri più freddi e asettici che noi rinveniamo nel regolamento attuativo dell'articolo 7 del DPR del 2012 sicuramente abbiamo quelli che sono gli aspetti che riguardano gli obblighi che attengono gli iscritti rispetto ai doveri che attengono agli enti e all'attività di accreditamento e di tenuta degli elenchi delle istituzioni degli enti che possono organizzare eventi formativi come dicevo prima sulla possibilità di anche di ottenere l'esonero rispetto all'obbligo formativo che ovviamente questo poi si rispecchia rispetto al caso di specie con la documentazione di quello che può essere lo stato patologico o lo stato di impossibilità oggettivo o legato a un caso fortuito che dà la possibilità appunto di sospendere l'obbligo formativo e quindi avere la possibilità di non incorrere nella sanzione ovviamente questo è un dato che è necessario affinché poi il precetto non sia poi avvertito come ingiusto da parte della comunità stessa e su questo caso notavo a questo modo chiedo una correzione al Presidente se sbaglio che differentemente invece sempre facendo un'analisi comparativa con l'ordine forense qui non è prevista l'esenzione in caso di anzianità professionale per esempio noi nel caso degli avvocati e questo potrebbe essere un dato critico mi prendi in preparato perché credo che non c'è e questo a mio avviso la mancata previsione è una cosa positiva perché a questo punto l'aggiornamento non può essere legato semplicemente a un dato di anzianità ma è un aggiornamento continuo legato anche al mutamento normativo non è proprio secondo me attuabile anche perché l'aggiornamento normativo è in continuo quindi noi per quanto riguarda tutta la parte legislativa alimentare che cambia nel giro di pochissimo sarebbe proprio non poter professare fare il prezzo i clienti e quindi con questo diciamo posso concludere sicuramente facendo riferimento alla necessità comunque dell'assolvimento di questo obbligo che non è solo appunto un obbligo a tutela di terzi ma soprattutto la tutela del singolo professionista nell'esercizio delle sue funzioni grazie grazie all'avvocato Carmine Foreste consigliere dell'ordine degli avvocati di Napoli continuiamo grazie a tutti